Buongiorno a tutti e benvenuti al centro GB Fabri per la conferenza stampa di presentazione della gara Cagliari Spalli in programma domani alle ore 15 alla Sardegna Arena. Vediamo un aggiornamento sugli indisponibili, oltre allo squalificato strefezza non saranno disponibili di Francesco che prosegue con il programma personalizzato per l'infortunio o bicipite femorale della coscia destra e Jankovic per un affaticamento muscolare. Prego per le domande al mister. Ciao mister, Giuseppe Celighini, Telestense. Dopo la sosta pensi di confermare, escluso sanzioni del giudice sportivo, la formazione che Ben ha fatto prima della sosta o hai qualche idea diversa? Il mio riferimento è soprattutto a Valdifiori che dal mio punto di vista può diventare un valore aggiunto molto importante in futuro. Credo che in linea di massima sarà quella lì la formazione perché abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto una bella prestazione, una squadra di valori, andiamo a affrontare un'altra squadra sicuramente che ha dei valori assoluti, ha fatto un cambiamento e un miglioramento molto importante rispetto all'anno passato, ha investito tanto sul mercato, una squadra sicuramente in salute, è un campo particolare, tra l'altro noi non abbiamo mai raccolto niente in quel campo e quindi bisognerà cercare di fare una prestazione veramente importante per dare continuità sia a livello di prestazione a quello che abbiamo fatto col Parma ma soprattutto provare a portare a casa dei punti che sarebbero importantissimi. Ciao Ministro, Andrea Tebaldi da Nuova Ferrara. Come sta Vicari che sappiamo ha avuto qualche problema in settimana? Vicari si è allenato un po' a parte però insomma siamo stati attenti a non sforzare questa problematica che lui aveva e quindi è stata anche da parte nostra, abbiamo fatto fare degli allenamenti per salvaguardarlo e portarlo diciamo ad oggi a completa disposizione quindi insomma sarà a disposizione per la gara di domani. I reduci dalle nazionali come li hai trovati? Tutto a posto? Sì tutto bene, purtroppo abbiamo avuto questo problemino con Iankovic però insomma tutto bene, sicuramente Curti ci ha fatto due partite insomma di 90 minuti, abbastanza intense, però insomma i ragazzi stanno tutti bene. Su cosa hai puntato principalmente in queste due settimane, questa sosta diciamo? Ma fa di capire che bisognava continuare a avere un atteggiamento ma abbiamo avuto con il Parma dove abbiamo fatto una partita di grande aggressione, di grande pressione, di furore agonistico importante e se riusciamo a dare continuità a quello che abbiamo intravisto con il Parma sicuramente possiamo dare il filo a torcere a tutti ma soprattutto portare a casa dei punti importanti per quello che è il nostro obiettivo. Quindi sotto questo aspetto abbiamo cercato di dare continuità a certi tipi di allenamento, a un certo tipo di mentalità, sia sotto l'aspetto difensivo e sotto l'aspetto offensivo. Buongiorno Matteo Langone, il resto del Carlino. Allora prima domanda sulla sosta appunto, è arrivata dopo una vittoria che era stata a lungo cercata, è stato un momento positivo per ricaricare le batterie o forse sarebbe stato meglio continuare a giocare dato che era arrivata appunto la vittoria. Ma sai, sicuramente quando vinci ti piacerebbe così di poter giocare anche dopo sette giorni, però non è stato possibile e quindi abbiamo cercato di sfruttarla per migliorare le tante cose che dobbiamo migliorare. Dispiace perché col fatto dei nazionali avevamo qualche assenza di troppo, però ci ha permesso di recuperare alcuni giocatori e di trovare, spero e penso, una condizione migliore per affrontare questo nuovo inizio nei migliori modi, soprattutto a livello di prestazione, di intensità e di qualità fisica migliore rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. Sul Cagliari, dato che sta avvenendo un buon inizio di stagione, che tipo di approccio pensi che abbia la squadra sarda alla partita? A parte l'inizio del campionato dove ha perso il Brescia e ha pareggiato nel Verona, però specialmente in casa fa valere tanti aspetti, è uno stadio particolare, è un tifo particolare e quando gioca in casa riesce a esprimersi in una certa maniera. Sicuramente quest'anno con i calciatori sono arrivati, sicuramente hanno migliorato sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto fisico. Mi aspetto una squadra sicuramente ben messa in campo, una squadra che ha dei valori, però come ho detto i ragazzi, noi non bisogna pensare all'avversario di turno, che sia il Cagliari, sia il Parma o sia prossimamente il Napoli, ma bisogna pensare a mettere in campo tutto quello che abbiamo rispettando l'avversario, ma soprattutto non sapevoli che la squadra sta crescendo, che abbiamo delle qualità e bisogna metterle sul campo. Ciao mister, Andrea Mainardi, stensi.com, non so se in settimana hai letto le parole di Gomis, se ti senti un pochettino di, se vuoi insomma, dire anche la tua in proposito. Ma allora, quando mi ha fatto la domanda sorrido perché ha detto che è andato via perché è un merito mio, infatti io mi prendo il merito, perché sicuramente quando è arrivato qua aveva fatto dei buoni campionati di Serie B, io l'ho fatto esordire in Serie A, gli ho dato continuità, gli ho dato fiducia insieme alla società. Grazie a questo cammino e questo percorso ha guadagnato anche la nazionale e quindi credo se oggi è andato a avere un'esperienza nel campionato francese, sicuramente questo grande merito è della spalla di Leonardo Semplici. Poi è normale che quando hai a disposizione da parte della società due portieri come Meret, prima e poi Viviano, che sono profili diversi, fai delle scelte o non è giusto che faccia allenatore. Però insomma, io da parte mia ne posso solo augurare il meglio. E un'altra cosa, per quanto riguarda invece le scelte di domani in attacco, se sei orientato a confermare anche Flocker e se ti aspettavi anche quest'anno di trovare in lui un giocatore così importante per te. Ma guarda, la mia prima richiesta quando sono rimasto è stata la conferma di Sergio e di Felipe perché secondo me sono due calciatori che hanno un passato e un percorso professionale importantissimo. In primis come uomo e poi come calciatori. Quindi sono partito da queste due conferme perché sono i giocatori che mi possono dare tanto, mi possono aiutare nella gestione di tanti aspetti perché hanno l'esperienza per farlo. Sicuramente sia Felipe che Sergio sicuramente si stanno facendo trovare pronti, stanno dando quel contributo che io e la società aspettavamo e siamo contenti di questo però alle loro spalle sicuramente stanno spingendo anche altri per far sì che la squadra migliori e sia ancora più competitiva. Adesso arriva il trittico Cagliari, Napoli e Milan che sono un po' le tre squadre forse un po' più ostiche per la tua spalla degli ultimi due anni. Credo 11 sconfitte su 12. Volevo chiederti il rapporto alla spalla di quest'anno ma anche agli avversari dei momenti che stanno vivendo, quale può essere secondo te tra queste la partita in cui la spalla ha più possibilità di fare punti, magari anche di vincere? Noi ci proviamo sempre, poi c'è sempre di mezzo l'avversario, sicuramente sono abituato a pensare a partita dopo partita quindi in questo momento le forze di tutti noi sono basate sulla partita di domani e quindi poi penseremo anche all'avversario, sicuramente l'aspetto a te sarebbe l'ora magari di cominciare anche a fare punti contro squadre blasonate ma possano essere il Napoli o il Milan, sicuramente sono squadre attrezzate in questi anni per obiettivi ben diversi da quella della spalla. Mister ti volevo chiedere di Salomon, se pensi che possa essere aggregato, se è in condizione, se sono scelte tecniche. Salomon è aggregato, è diventato un gruppo, sì sì, tra i convocati, sicuramente l'ultima partita mi sembra l'abbia fatta a marzo e quindi ha avuto questo infortunio, ci vorrà un po' di tempo per rendersi utile alla causa, però intanto lo voglio avvicinare a quello che l'ambiente, il gruppo, anche se lo conosceva già e far sì che anche lui possa essere partecipi a quelle saranno le prossime situazioni future.